Questa settimana abbiamo giocato a 8 titoli diversi Quindi partiamo subito con raccontarvi ciò che abbiamo giocato Non faccia schifo come intro ma fa niente Ciao a tutti giocatori e semplici curiosi Noi siamo Giulare e vi diamo il bentornato nella nostra mansarda per il nostro diario di board game Ovvero vi raccontiamo tutto ciò che abbiamo giocato nella settimana che per noi è appena trascorsa Non prima di ringraziare tutti coloro che ci sostengono su Patreon E ricordarvi che se volete aiutarci qua sotto in descrizione trovate un link e avrete un sacco di contenuti esclusivi Degli 8 titoli che abbiamo giocato vi abbiamo già parlato di Sherlock Holmes Consulente Investigativo Azul, I Giardini della Regina, Five Minutes Dungeon, Five Minutes Mystery, Scioglilingua e e e oltre Partiamo quindi con il parlarvi di Cryptid Leggende Urbane Titolo che in realtà noi abbiamo già da un po' abbiamo già giocato abbastanza nell'ultimi mesi in realtà Perché il gioco è stato presentato in anteprima alla scorsa Play Modena Ma avrà la sua release ufficiale, il suo day one uscita in tutti quanti i negozi sarà lunedì prossimo il 26 di settembre Titolo per due giocatori ambientato nell'universo di Cryptid Sempre gioco di playa game edizioni che già aveva localizzato anche Cryptid E che appositamente non ho definito la versione per due giocatori di Cryptid Come molto spesso in giro ho sentito promuovere, parlare di questo gioco dando questa definizione Perché in realtà non è la versione per due giocatori di Cryptid Ma è un gioco per due giocatori ambientato nell'universo di Cryptid E questa cosa deve essere chiara a tutti coloro che affrontano il gioco Perché se cercate la versione per due giocatori di Cryptid non la troverete nella scatola Cosa c'è nella scatola? Io per prima la prima volta che ho sentito arriva Cryptid, leggende urbane per due giocatori Subito ho detto hanno fatto la versione di Cryptid per due giocatori Perché se no non me lo chiamano i Cryptid E quindi anch'io quando ho approcciato il gioco la prima volta quando in fiera l'ho provato Mi immaginavo appunto un Cryptid, quindi le modalità di Cryptid Però modificato in modo che potesse essere giocato due giocatori Quindi alla prima partita ho detto Ma non c'entra niente con Cryptid E grazie al cavolo perché come ho detto Albi non c'entra niente E l'ambiente e il mondo Ci sarà da una parte il mondo dello scienziato Quindi che cercherà di andare a ricercare questo Cryptid per far sì che non vada in giro per la città Mentre il Cryptid dall'altra parte cercherà di sfuggire dallo scienziato Quindi cercherà un po' di nascondersi, di depistare, nascondersi tra le vie della città E questo è il gioco Avremo un giocatore che impersonerà lo scienziato Che farà le sue mosse per far sì di contenere il Cryptid e catturarlo Dall'altra parte abbiamo il Cryptid che con le stesse identiche mosse che ha a disposizione lo scienziato Però al contrario cercherà di sfuggire Cryptid se non lo conoscete è un gioco uscito un po' di anni fa Tra l'altro era anche candidato quest'anno al Kennerspiel des Jahres Un gioco che è stato molto premiato di grandissimo successo Che anche a noi piace moltissimo Ed è un gioco di deduzione Nel quale tutti i giocatori hanno parte dell'informazione che andrà a completare Tutte quanti assieme L'unico luogo della mappa nel quale si nasconde il Cryptid Il primo giocatore a riuscire a dedurre correttamente In base agli indizi e alle risposte che danno gli altri Qual è quell'unica posizione? Vince Questo gioco Cryptid, diciamo il vecchio Cryptid Era già dato in realtà con una variante per due giocatori Che però non funzionava benissimo Perché il gioco dà il suo meglio da tre giocatori in su Quando poi è stato annunciato questo Cryptid Legende Urbane Per soli due giocatori Va da sé che la mente vada a pensare Avranno trovato una variante, una modalità Un escamotage Un escamotage per far funzionare anche quel gioco di deduzione In soli due giocatori Però all'interno invece di Cryptid Legende Urbane Non trovate un gioco di deduzione Trovate un gioco astratto potremmo dire In cui noi con le tre carte azioni Con le sole tre azioni che entrambi i giocatori hanno Nella stessa distribuzione all'interno del loro mazzo Semplicemente gli arriveranno in ordine diverso E quindi dovranno adeguarsi un po' alle poche azioni che potranno fare Sposteranno questi sensori colorati attraverso i quartieri della città A fianco ai vari quartieri Al fine di determinare se in quel quartiere ci può essere o non ci può essere il Cryptid È un gioco che è difficile da spiegare solo parole Infatti è già uscito lunedì il nostro gameplay Vi invitiamo ad andarlo a vedere se ancora non l'aveste visto Perché spiegato è proprio difficile da capire Anche la prima lettura del regolamento Per quanto le regole siano chiare Non hai dubbi sul cosa devi fare Il come riuscire a giocarlo bene A riuscire davvero a vedere nei turni successivi Che cosa succederà Quali saranno le possibili condizioni Alla fine del round Quando tutti i sensori saranno stati mossi Alle prime partite non riuscirete a vederlo Quindi vi capiterà magari la prima partita Di giocarlo un po' a casaccio Dopo play ho sentito dei commenti abbastanza Freddini Nei confronti di Cryptid Leggende Urbane Ma perché proprio alla prima partita Non capisci bene che cosa stai facendo Non capisci bene dove devi andare a parare Perché in realtà ogni tua azione È di preparazione al turno successivo Devi giocare molto sul lungo periodo E devi riuscire molto bene a visualizzare Quello che accadrà Ovviamente ci sarà però sempre l'altro giocatore Che non vorrà fare accadere ciò che tu fai Perché è proprio come se fosse un tiro alla fune Io cerco di mettere i cubetti in un modo E l'altro cercherà di metterli in un modo diametralmente opposto E quindi questa tensione Questo continuo spostarsi Di sembra che il Cryptid stia per vincere Poi con una sola mossa Oh mio dio no non vincerò mai più Ho perso la partita Vincerò lo scienziato E alla mossa dopo Un continuo ribaltamento di questa situazione Lo sentirete fortissimo E quindi ci sta che alle prime partite Uno giocando anche un po' a caso Perché non riesci effettivamente alle prime partite Se come noi poi non siete proprio Nella vostra comfort zone Giocando un gioco Con delle dinamiche meccaniche Che ricordano un po' gli astratti Chiaramente vi sembrerà di Vabbè sto giocando a caso Sono capitate cose a caso E in realtà non è così Cos'è successo? Non basta una partita E soprattutto non basta una partita giocata in fiera Infatti poi a casa Tranquilli che ci siamo rimessi L'abbiamo giocato più volte Allora sì Allora poi dopo averlo provato più volte Diciamo che è un gioco che va imparato Ci va un attimino Dopo la prima partita Almeno Per quanto riguarda le nostre capacità Ma credo proprio un po' in generale A livello di gioco Questa tipologia di giochi Che man mano che vai avanti Allora vedi delle astuzie E quindi Poi magari rimani scarso Perché non è nelle tue corde Però Capisci perché devi fare Certe cose Esatto Devi proprio entrare un po' Nell'ottica del gioco Che secondo me Non è così immediata da capire Alla Alla primissima partita Tant'è che magari Fatta qualche partita Dici Ah allora vedi Il cryptid Deve vincere subito Perché se la partita Va troppo per le lunghe Vince lo scienziato Poi in realtà Non è così Neanche quello Cioè Vi sembrerà di aver Notato delle cose Nel gioco Ma che in realtà Giocato un numero Con sono di partite Vi accorgerete Che in realtà Non è così Secondo noi È un gioco valido Che può rischiare Di pagare un po' Lo scotto Proprio perché Il nome Perché si chiama Cryptid Leggendo urbane Se fosse chiamato Leggendo urbane E basta Avrebbe funzionato Lo stesso Allo stesso modo Non si sarebbe Forse generato Un'aspettativa Che probabilmente Molti hanno Anche da ciò Che ho letto Anche online Di aspettarsi Cryptid Nella versione Per dei giocatori E un altro gioco E banalmente Un altro gioco Ambientato All'interno Dello stesso universo Quindi ci sta Che poi Cryptid è un termine Che sta a identificare Le creature Tipo il Bigfoot Tipo il mostro Di Loch Ness Quindi Va da sé Che lo stesso editore La stessa Sia casa editrice Originaria Sia Play of the Game Che l'ha localizzato Viene proprio da pensare Che sia un po' Lo spin off Di quello Quando in realtà Non lo è Abbiamo poi giocato A gasha E che per chi Non lo sapesse L'ho scoperto Giocando a questo gioco Gasha Sono quelle macchine Almeno in Giappone Vengono chiamate così Le macchinette Mangiassolli Che tutti i bambini Vogliono Che scendono Queste palline Con pallone Palline Pallettine Con dentro La sorpresina Le cadatine In questa ambientazione Che è molto particolare Ma è molto attivante Al gioco I disegni Sono carissimi A me è piaciuto Sì È piaciuto il fatto Che c'è una forte attinenza Dell'ambientazione Che si è voluta dare All'interno del gioco Mi è proprio piaciuta Questa cosa Il gioco è super Super mega semplice Mi sembra che la scatola Lo dia dai 7-8 anni Ma secondo me È tranquillamente anticipabile Tanto non c'è Nulla da leggere Basta saper riconoscere I disegnini Di questi portachiavi Pupazzetti carini Avrai il robot Avrai il rapanello La bambolina E dovrai Tu probabilmente Pescare delle carte Carte che avranno Queste immagini Dei vari tipi di souvenir Che hai trovato all'interno Del tuo gasha E giocarli In varie combinazioni Per prendere delle carte premio Che ti danno dei punti Alcune di queste carte premio Oltre ai punti Hanno anche dei ticket Che raccogliendo due ticket Dello stesso colore Prendi anche un piccolo bonus Che possono essere Fai subito un turno extra Fai un turno aggiuntivo O hai un simbolo jolly Per completare uno dei set Fine Super super semplice Super super Non ha niente di che Ma mi piace che sia tematico Perché è tematico? Perché le carte che tu vai a pescare Sul retro Tu vedi la macchinetta Dove metti la monetina Giri la rotellina Per far scendere la palletta E vedi che quella macchinetta Ti può dare O il robottino O la bambolina O il sushi E allora tu pescherai E saprai che lì dietro Avrai il 33% Di possibilità Di trovare uno di quei tre simboli Che a te potrebbe servire Se ci sono solo due simboli Avrai il 50% Di possibilità Che lì dietro ci sia Esattamente quello che ti serve Ma anche il 50% Che non ci sia E quindi comunque Mi piace Perché tu sei proprio lì Che vai alla macchinetta Dici Ah in questa macchinetta Posso vincere questi premi Vediamo se mi arriva Quello che vorrei Voglio assolutamente il sushi Datevi il sushi E poi ti arriva il robot No No Però Cioè come gioco in sé Come meccanico Che non ha niente Cioè è proprio un gioco Basissimo Linearissimo Semplicissimo Ma che davvero Cioè mentre lo giocavamo Diciamo Giulia e Niccolò Magari senza troppa strategia Ma sarebbero in grado Di giocarlo Perché Cosa ti serve Per completare questo ticket Il sushi E la bambolina Pesca una carta Che forse ha il sushi dietro E guardi quelle che ci hanno Sul sushi Fine Quello è il massimo Di pensiero strategico Che devi fare In quel gioco Però È ben ambientato E invece Molto meno bello È stato Angry Monkey Anche questo Di studio supernova Anche questo Solo di carte Anche questo Con delle illustrazioni Particolari Che a mio gusto Mi sono piaciuto Un pochino di meno Però Un gioco Un gioco Anche qua Di sole carte Di gestione Della nostra mano Avremo carte numerate Dall'1 all'11 Più il jolly La scimmia Noi dovremo sempre giocare Carte Tutte dello stesso valore Dalla nostra mano Di valore pari o superiore A quello che si trova In quel momento Nel pozzo Nella pila degli scarti Al centro del tavolo Se non abbiamo carte Valide da poter giocare Ne pescheremo una casualmente Saremo obbligati a giocare quella Se ci va bene Bene Se ci va male Prenderemo allora Tutte le carte Che sono negli scarti E le aggiungeremo alla nostra mano Che è un male Perché vincerà il primo Che finisce le proprie carte Ma anche un bene Allo stesso tempo Perché avrai più scelta Avrai la possibilità Di giocare più carte Contemporaneamente Magari avere un pochino Più di strategia Che non con meno carte in mano Metti i battoni Alcune di queste carte Avranno poi delle abilità speciali Perché noi abbiamo comunque Quattro carte coperte Davanti a noi Che quando dal mazzo di pesca Salterà fuori il gatto malefico Si stopperà di poter pescare carte E inizieremo a giocare Carte della nostra mano E poi le carte coperte Carte che noi Teoricamente non sappiamo Quali sono Ma con alcune abilità Possiamo sbirciare Possiamo scambiare Con carte che abbiamo in mano E quindi prepararci Diciamo alla fine Della partita Quindi al momento In cui si arriverà A poter giocare queste carte Sperando di riuscire a vincere La partita È andata più o meno così Ok Gioca carte Va bene Gioco queste Ok Ok Ma perché E c'erano queste quattro carte lì Che non potevamo toccare Fino al gatto malefico E chissà perché poi hanno deciso Proprio come animale malefico Il gatto Poi allora Dopo la rivelazione del gatto Quindi hai meno carte Cerchi di Allora inizi a Diventa un pelino Hai un po' di scelta Diventa un po' strategico Inizia a capire perché devi fare Una determinata cosa Piuttosto che un'altra Esatto Perché tenerti sull'otto E non il due Queste E che c'è tutta la prima parte Praticamente del gioco Dove tutti quanti Siamo arrivati Abbiamo giocato in quattro Siamo arrivati alla fine della partita Dicendo sì Vabbè Ma allora Cioè perché non Probabilmente L'abbiamo approcciato malamente Dovrebbe essere Tipo un gioco di carte Classico Di non so dove Riproposto in questa veste Un po' più Riammodernata Anche dal punto di vista grafico Però ci è sembrato tanto Che la primissima parte del gioco Finché appunto Non smetti di pescare Carte Perché tu giochi carte E poi ripeschi Fino a tornare ad averne 3-4 in mano Finché però Non esce il gatto Questa prima parte In cui sì Io gioco Ma intanto ripesco Cioè deve essere di preparazione Dovrebbe essere una parte di preparazione Sì Però è tanto Lunga Da un lato E tanto un po' Vabbè Andiamo avanti Finché non arriva il gatto Allora in quel momento Qualcosa Riesco a farla Qualche effetto Sarò già riuscito ad applicarlo Ogni tanto avrò tolto carte Dagli scarti Così evito di tirarmele Tutte quante su Però Non ci ha detto proprio niente Probabilmente l'abbiamo approcciato Non con lo spirito giusto Probabilmente non abbiamo ben capito Cosa dovessimo fare Però da un giochino Semplice di carte Giocato anche poi Subito dopo Gascia in realtà Se gascia anche Senza nessun tipo di pretesa Senza nessun tipo di regola Particolare Comunque funziona bene Comunque è una tematica simpatica Che te lo fa apprezzare Questo sarà anche che Non ha praticamente un tema Giochi questi numeri Che sono animali Ognuno ha delle abilità Ma finisce lì Cioè Ci ha proprio lasciato Tutti quanti abbastanza Interdetti E non ce l'ha fatto impazzire Finisce così La nostra settimana ludica Ma prima di salutarci Vi ricordiamo che lunedì È uscito il gameplay Di Crypto e Leggende Urbane Quindi non perdetevelo Andatelo a vedere Perché così Speriamo Fateci sapere Se siete riusciti A spiegarvi bene il gioco Perché ci rendiamo conto Che Non è così semplice Ma ci auguriamo Che vedendo una partita completa Forse riuscite a capire Un po' meglio Meccaniche e dinamiche Del gioco E poi mercoledì È uscito invece Il gameplay di 5 Minute Mystery Quindi andate a vedere Questo freneticissimo gioco Con questo fantastico Decoder Su cui segnare I vari simboli Che andremo a trovare Nelle stanze Del museo Di tutologia Noi come sempre Vi ringraziamo Per essere stati con noi Vi ricordiamo Patreon Vi ricordiamo Tutti quanti I nostri social Che siamo live Praticamente tutti i giorni Sul canale Viola Sia sul nostro Che su quello Di Dungeon Dice TV Vi ricordiamo Che qui a casa Giullari Si gioca per giocare I Giullari vi salutano E che il gioco Sia con voi Ciao